1, 2, 3, dove cazzo gli ho messi? Che cos'hanno in comune un pilota americano dell'aeronautica e un trandiere di Torino? Un cazzo! Quando scegli un paio di occhiali puoi acquistare quelli che sono di moda oppure puoi scegliere quelli di stile, che non sono di moda mai e non passano di moda mai. Uno è questo, sono gli aviator di Ray-Ban e sono nati nel 1937 per i piloti americani. E l'altro? Nel 1957 i trandieri di Torino vengono dotati di questi occhiali, i Persol 649. Con il divorzio dell'italiana, Mastroianni nobilità questi occhiali, che diventano degli occhiali di stile. Il 649 anche nella versione Steve McQueen, che è quella che si piega in più parti, però alcuni miei amici non si trovano bene perché ogni tanto quando ce li hanno su si piegano da soli. Oppure questi, i 649, in varie colorazioni, sia di lenti che di montatura. Quindi, se vuoi avere sempre occhiali di stile, puoi scegliere tra i Persol e gli aviator di Ray-Ban. Suntana Eva, che freddo! I Persol 694, 649. I Persol 649, no, porca troppa.